le lungaggini della politica italiana per la scelta del nuovo esecutivo ispirano la copertina di gene gnocchi al programma di martedì in onda sulla 7 io dico la verità apre lo show il 63 n non so tu ma per me anche mattarella un po deluso mi aspettavo qualcosa in più l'altro giorno ha chiesto ditemi se ci sono altre maggioranze sergio veramente volevamo saperlo da te in questo due mesi l'unica cosa buona che mattarella è riuscito a fare è stata far tornare insieme boldi ed essica certo non è poco ma uno sforzo in più gnocchi poi estrae la filatissima battuta finale ma quanti nomi hanno dato a questo governo di transizione di scopo neutrale di servizio invece bastava un solo nome governo di mea clicca qui per il video